Offerta formativa per l'anno scolastico 2018-2019. La nostra scuola lavora in un orario settimanale di 30 ore al mattino e poi nel pomeriggio numerosi progetti di potenziamento che coprono tutto l'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, abbiamo dai corsi di informatica alla matematica attraverso la tecnologia, i corsi di robotica, inglese, potenziamento della lingua italiana attraverso le tecnologie, lo storytelling e la realizzazione di video e ancora l'inglese con il Trinity, il coro della scuola e da ultimo la neonata banda musicale dell'Istituto Comprensivo. Quindi vi aspettiamo per presentarvi e spiegarvi tutta la nostra offerta formativa.